Nel panorama avvincente del pugilato italiano, un evento imperdibile sta per prendere vita. Il prossimo 24 novembre, gli amanti dello sport avranno l'opportunità di assistere a un combattimento adrenalinico per il titolo italiano vacante dei pesi leggeri. L'arena di questa sfida avvincente sarà Ugento, affacciata sul mare cristallino del Salento, e vedrà sfidarsi due talenti straordinari. Giuseppe Carafa, rappresentante della palestra Cavini, e Pasquale Di Silvio, proveniente dall'AS di Boxe Massai. Giuseppe Carafa, con il suo percorso pugilistico fatto di vittorie e titoli, si è guadagnato la nuova opportunità di salire sul ring per contendersi il titolo nazionale. Carafa ha dimostrato una determinazione inarrestabile e una tecnica impeccabile nel corso della sua carriera. La sua abilità nel dosare la potenza dei colpi con la precisione dei movimenti lo rende un avversario temibile per chiunque gli si parerà di fronte. Dall'altro lato dell'angolo troviamo Pasquale Di Silvio, un pugile la cui storia personale si intreccia con la passione per il pugilato. Rappresentante dell'AS di Boxe Massai, Di Silvio ha dimostrato di avere non solo la forza fisica, ma anche la forza interiore necessaria per affrontare sfide di questo calibro. Di Silvio vanta esperienza nazionale e internazionale con una carriera costellata da tanti titoli. La sua dedizione allo sport e il suo cuore instancabile sul ring lo rendono un avversario determinato e agguerrito. L'incontro tra Carafa e Di Silvio non è soltanto una sfida per il titolo italiano dei pesi leggeri, ma è anche l'incarnazione dell'essenza del pugilato, la disciplina, la forza, la strategia e il coraggio. Entrambi gli atleti hanno dimostrato di meritare questa opportunità e hanno lavorato duramente per arrivare fin qui. Il palcoscenico di Ugento diventerà l'arena in cui questi due guerrieri si contenderanno il titolo e, insieme, iscriveranno il loro nome nella storia del pugilato italiano. L'organizzazione di questo evento è a cura di Rosanna Conti Promotions, un nome sinonimo di eccellenza nel mondo del pugilato italiano. L'attesa è palpabile e gli appassionati non vedono l'ora di vedere questi due atleti di livello superiore incrociare i guantoni. La serata promette emozioni, suspense e l'energia unica che solo lo sport può regalare. Il 24 novembre Ugento diventerà l'epicentro del pugilato italiano e il nome del nuovo campione d'Italia.